Le parole dell'ex ministro Francesco Boccia, attuale responsabile nazionale degli enti locali del PD, espresse in riferimento alle prossime elezioni regionali in Calabria, vanno nella direzione già tracciata ormai da mesi dal Movimento 5 Stelle e portata avanti coerentemente nelle interlocuzioni che si sono susseguite. Costruire cioè una grande coalizione progressista, capace di mettere insieme quelle anime politiche che vadano dal Movimento 5 Stelle al centrosinistra per finire al Polo Civico, ovvero risorse ed esperienze che si rifanno ad una ben determinata area di valori e di politiche pubbliche. Lo affermano in una nota tutti i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle. Bisogna lavorare all'unità delle forze che si contrappongono all'idea di Calabria e di sviluppo della Calabria immaginata da forze politiche che hanno evidentemente fallito. Tuttavia, affermano ancora i parlamentari 5 Stelle, per realizzare questo progetto politico è necessaria una soluzione di sintesi, sia nell'approccio che nei nomi prospettati. Pertanto, nessun nome deciso unilateralmente può andar bene. D'altronde, per concretizzare un'alleanza strutturale, questa deve essere consolidata non solo dalla condivisione di medesimi principi, quanto dalla ricerca di quel buonsenso che non può pregiudicare dal dialogo con tutte le forze che vogliono porsi in discontinuità con il passato. Il PD nelle scorse settimane aveva indicato l'ex presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, quale candidato presidente del centro-sinistra. C'è ancora tempo e spazio, concludono i 5 Stelle, per portare avanti un percorso virtuoso, inedito e credibile da presentare ai calabresi che difficilmente comprenderebbero divisioni e beti incrociati.